In un momento d'estrema frammentazione, d'estrema contraposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature, capaci di vivere nella società e per la società. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio, ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, tutti insieme, per educare i bambini, per educare il futuro. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune, affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Serve un patto educativo globale che ci educa alla solidarietà universale a un nuovo umanessimo. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura. Grazie a tutti.